La polizia di Comiso ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un guineiano di 22 anni per innumerevoli casi di spaccio di marijuana e hashish anche in danno di soggetti di minore età. Due società a cui era stato dato l'appalto per i lavori dell'hotel Hilton Capo Mulini sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza e nello specifico i soldi destinati dal Ministero dello Sviluppo Economico sono stati utilizzati per altro. Sebastiano Gurrieri annuncia la propria candidatura a sindaco di Chiaramonte-Gulfi per le prossime elezioni amministrative che si terranno in primavera. Gurrieri sarà sostenuto da una coalizione che si chiamerà Liberiamo la Città. L'Istituto Comprensivo Puglisi di Acate ha aderito al progetto Teleton questa mattina nel presso dell'Istituto. Alunni e genitori hanno partecipato al mercatino di Natale. Quindici minuti dopo le quattordici siamo tornati in diretta con questa nuova edizione del nostro telegiornale. Dunque lo avete ascoltato dai titoli. In apertura ci occupiamo di cronaca e parliamo dell'arresto portato a termine dagli agenti del commissariato di polizia di Comiso nei confronti di un 22enne originario della Guinea. Il ragazzo era latitante e su lui pendevano diverse condanne anche registratesi nell'età minorile. Allora ricostruiamo quanto è accaduto attraverso le parole del servizio di Viviana Sammito. L'indagine antidroga era stata avviata nel 2013. La polizia di Comiso è stata sulle sue tracce da anni ma lui già sottoposto all'obbligo di firma al commissariato di polizia per spaccio di sostanze stupefacenti si era reso latitante. È stato catturato ieri a Roma dove in attesa del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e senza alcun vincolo sul territorio nazionale andava spesso in questura fornendo altre generalità le stesse che aveva in passato dato per istruire la pratica di rilascio del permesso sperando di passare inosservato. Con l'inserimento delle impronte tramite AFIS e il mandato di cattura ai terminali della polizia non è sfuggito agli agenti di Roma i quali raccordandosi con il commissariato di Comiso hanno eseguito l'arresto del guineano di 22 anni Brulayet Traore che dopo più di due anni di latitanza è stato condotto nel carcere romano di Regina Celi. Questi frame hanno aiutato la polizia di Comiso a ricostruire gli affari dell'immigrato che spesso per eludere i controlli e non destare i sospetti cambiava le abitudini. E in questa immagine è stato ripreso mentre arriva in centro per incontrare due acquirenti che sostano a bordo di uno scooter. Il puscere piazzava lo stupefacente nel giro di pochissimi secondi ed era fin anche riuscito ad avere una vasta clientela. I poliziotti ne hanno identificati 80, molti anche minoranni. Nel 1 aprile 2013 un giovane assuntore notando la polizia aveva lasciato cadere un involucro che conteneva 1,75 grammi di marijuana. Dal controllo del suo cellulare è emerso che si era messo in contatto contro Ore Brulayet, noto come spacciatore arrestato alcuni giorni prima a Comiso ed è anche emerso che abitava poche decine di metri dal luogo dove erano stati fermati due in possesso dello stupefacente in via Silvio Pellico. L'extracomunitario si era accorto di essere sotto il rigido controllo della polizia, tanto è che si faceva vedere sempre meno, fino a cambiare anche il luogo dove effettuare le consegne della droga, nel piazzare dell'Immacolata o alla stazione di Comiso. L'immigrato ha deciso poi di porre le basi a Roma, lasciando Comiso, dove la polizia non si è mai dimenticata di lui. A Roma ieri è finita la sua latitanza. Stesso argomento ma ci spostiamo a Vittoria dove la polizia ha promosso dei controlli oculati e mirati a contrasto dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo ha fatto all'interno degli istituti scolastici. In un caso uno studente è stato addirittura sorpreso mentre rullava, questo è il termine tecnico, uno spinello sotto il banco. Aveva tutto l'occorrente per rullarsi la canna sotto al banco al posto di Libri e Penne e si stava preparando uno spinello prima della ricreazione. Un minorenne è stato sorpreso dalla squadra mobile di Ragusa che con l'aiuto dei cani antidroga Up e Sky ha effettuato un blitz concordato solo con il preside in alcuni istituti vittoriesi. Tre studenti di una scuola sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori. La marijuana è stata sequestrata, i giovani non hanno riferito nulla sugli spacciatori, decidendo di non collaborare con la polizia nelle indagini. Altri controlli sono stati eseguiti in alcune abitazioni connesse a soggetti notati sia all'interno sia all'esterno degli istituti scolastici. Continuano le indagini al fine di accertare se gli spacciatori sono studenti come gli assuntori o soggetti che si avvicinano durante l'ingresso e l'uscito da scuola. Solo la costante buona educazione e prevenzione sull'uso degli stupefacenti e i danni ad essi correlati può formare adolescenti consapevoli dei rischi che corrono. Di pari passo la prevenzione è necessario reprimere quei fenomeni gravissimi presenti nelle scuole, si legge nella nota della Questura. Dispacciatori molto giovani che spesso si avviano al crimine per avere una disponibilità economica sin da giovanissimi o per acquistare stupefacente in quantità più consistenti proprio per la dipendenza psicologica e fisica delle quali sono vittime essi stessi. La Polizia di Stato continua a registrare un costante uso di sostante stupefacente tra i giovanissimi studenti delle scuole Iblè. La squadra mobile grazie alla collaborazione degli istituti scolastici continuerà l'attività di prevenzione e repressione del traffico di droga in tutte le scuole della provincia così come richiesto dai genitori che dopo i controlli hanno manifestato apprezzamento e gratitudine. E' comparso oggi davanti al giudice del Tribunale di Ragusa Vincenzo Saito il 18enne pozzallese già noto alle forze dell'ordine arrestato dai carabinieri ieri alla villa comunale per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga. Il pubblico ministero Veronica Di Grandi ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere. La misura è stata accolta dal giudice ma illegale della difesa ha chiesto il patteggiamento. Il ragazzo è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione con pena sospesa ed è stato rimesso in libertà. La guardia di finanze invece ha sequestrato un'area privata destinata a discarica abusiva a Vittoria. sono state rinvenute 40 tonnellate di cumuli di materiale derivante da plastica proveniente dalle serre agricole, imballaggi plastici e prodotti ortofrutticoli. Il proprietario del sito è stato denunciato. Smaltire la plastica e i rifiuti pericolosi in discariche speciali costa e quindi è più facile creare discariche abusive per liberarsi di materie plastiche provenienti dalle serre agricole, imballaggi plastici di prodotti ortofrutticoli, materiale cementizio e ferroso, pneumatici di smesse e vasche idriche di Ethernet. Ma non hanno fatto i conti con la guardia di finanza che ha intercettato il proprietario di un sito a Vittoria che è stato deferito per reati in materia ambientale e obbligato a bonificare l'area. I finanzieri hanno sequestrato circa 40 tonnellate di rifiuti speciali in un sito privato esteso per circa oltre 20.000 metri quadrati ubicato nel comune di Vittoria, nella zona del cimitero comunale. L'area era utilizzata per bruciare enormi cumuli di materie plastiche, sottraendole così al loro regolare smaltimento. Il sequestro dell'area, avvenuto con il supporto tecnico e la collaborazione di funzionari del settore ambiente e territorio del libero contorzio comunale di Ragusa, si è reso necessario per evitare ulteriori gravi conseguenze derivanti dall'abbandono dallo smaltimento illecito di rifiuti. L'abbandono incontrollato, oltre a costituire un deturpamento del territorio, considerata la natura dei materiali stoccati, può provocare una contaminazione del suolo, con conseguente potenziale danno per la salute della collettività. I controlli continueranno da parte delle forze dell'ordine che spesso vengono aiutati dalle telecamere di videosorveglianza che permettono l'immediata identificazione dell'auto e del proprietario per risalire al responsabile dell'abbandono illecito dei rifiuti. Due società a cui era stato dato l'appalto per i lavori di ristrutturazione all'hotel Hilton Capomulini sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza, nello specifico i fondi destinati dal Ministero dello Sviluppo Economico volti proprio alla ristrutturazione del complesso turistico sono stati dirottati ad altro. Oltre alle due società sono stati sequestrati beni per 5 milioni e 700 mila euro. Sentiamo Sara Donzuso. Nel nero in contante beni per 5,7 milioni di euro sono stati sequestrati a due società con sede a Milano e ai rispettivi amministratori per aver destinato a finalità diverse le convenzioni pubbliche dedicate alla crescita del territorio. In particolar modo ad essere finiti sotto la lenda di ingrandimento e le indagini alla Guardia di Finanza sono il presidente del CDA del gruppo West Italia, SPA Pietro Colucci e l'ex AD della Volteo Energie SPA Raimondo Flavio. Hanno distratto somme di denaro destinato all'hotel Hilton di Capomulini. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso al GIP di Catania su richiesta della procura eterna ed eseguito dai finanzieri del comando provinciale. La Volteo è infatti un'impresa attiva nel settore delle fonti di energie rinnovabili. La stessa Volteo ha preso un appalto alla ITEM SRL, la società che ha curato l'acquisto dell'ex hotel per la Ionica per lo sceico arabo Hal Ahmed Ahmed nella famiglia reale di Abu Dhabi. A fronte di un investimento notale stimato in circa 80 milioni di euro, la società acquirente la ITEM è stata beneficiare di uno dei contratti di sviluppo promossi nel 2014 dal Ministro dello Sviluppo Economico per la concessione di finanziamenti europei. La nuova struttura alberghiere e congressore doveva essere finalizzata entro la fine del 2015. Il progetto riconosciuto tra gli investimenti cruciali per il rafforzamento e le aree al mezzogiorno doveva essere sostenuto con un finanziamento pubblico complessivo di 24 milioni di euro. Seguendo le tracce ai movimenti bancari e mostri al sospetto della persistente fase di stallo dei lavori, i militai e la guardia di finanza hanno scoperto che la Volteo Energia S.p.A. ha utilizzato ben 7 milioni di euro per scopi del tutto diversi da quelli a cui era destinato il denaro, con un conseguente danno per l'economia locale. La polizia stradale a Scoglitti ha controllato alcuni soggetti a bordo di moto da cross, identificandone due senza targa. Un vittoriese di 35 anni che era anche senza alcun documento di assicurazione, un ragusano di 36 anni, anche egli senza targa e senza alcun documento di viaggio. Nei loro confronti sono stati elevati verbali per 1200 euro e sono state sequestrate le moto. I controlli sono stati intensificati, come disposto dalla prefetta di Ragusa, Maria Carmela Librizi, che ha ricevuto un esposto da parte di alcuni genitori che hanno segnalato che a Scoglitti tutte le domeniche si riuniscono dei motociclisti che a bordo di moto da cross senza targa percorrono a forte velocità le vie cittadine e perfino i litorali sabbiosi, mettendo a repentaglio l'incolumità delle persone che passeggiano con i propri figli. Entro il 31 dicembre sarà approvato un bilancio che durerà tutto l'anno ed una norma precisa per la proroga dei precari fino al 2018, per poi varare la finanziaria in un secondo momento con calma. E' quanto detto ieri dal presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, nel corso di un incontro con i giornalisti. Dal primo gennaio dunque inizia la stabilizzazione di tutti i precari. Buone notizie anche per i lavoratori ASU e per gli ex PIP. Dal primo gennaio prossimo sarà avviata l'assunzione dei precari, mentre una proroga è prevista fino al 2018. E' quanto detto ieri in conferenza stampa dal presidente della regione, Rosario Crocetta, che ha assicurato che i precari saranno tutti stabilizzati. Nella proposta di Crocetta c'è dunque la volontà di stabilizzare tutti i precari e i comuni avranno la garanzia che le risorse saranno sempre coperte dalla regione. Per quanto riguarda la proroga, ha aggiunto il presidente, è necessaria per fare la stabilizzazione, perché ovviamente tutti i lavoratori non potranno essere assunti dal primo gennaio. Pensiamo che la norma di proroga potrebbe entrare nel mille proroghe da approvare entro il 31 dicembre a livello nazionale, ma il governo ha previsto anche un paracadute per i lavoratori nel caso in cui la norma fosse impugnata nella parte che riguarda i comuni in dissesto, ovvero chi vuole può fare domanda dal primo gennaio per essere stabilizzato al Resais. I lavoratori potranno mantenere il ruolo che avevano, conservando il diritto ad essere assunti nel comune di appartenenza, qualora si liberassero i posti. Inoltre, per i comuni che non procederanno alle stabilizzazioni, saranno sanzionati. Ma buone notizie arrivano anche per i circa 1.500 lavoratori ASU, che saranno destinati ai beni culturali in Sicilia, ai parchi archeologici e naturalistici. Non voglio più leggere di parchi e musei chiusi di domeniche nelle festività. Abbiamo tutti questi lavoratori, utilizziamoli, ha detto Crocetta. Sarà studiato un progetto specifico sul Fondo Sociale Europeo e non costeranno alla Regione un centesimo in più. Una nuova proroga sarà prevista anche per i PIP, ha detto ancora il Presidente, con la riconferma delle misure in vigore e nuovi criteri per incentivarne l'esodo, mentre alcuni progetti sono stati studiati anche per gli sportellisti, con il Fondo Sociale Europeo, che dovrebbe garantire almeno un anno e mezzo la continuità lavorativa. Sebastiano, conosciuto da tutti come Iano Guerrieri, annuncia la propria candidatura a sindaco di Chiaramonte-Gulfi per le prossime elezioni amministrative che si terranno in primavera. Guerrieri sarà sostenuto da una coalizione che si chiamerà Liberiamo la città. La notizia era nell'aria, ma adesso arriva la conferma. Sebastiano Guerrieri, politico longevo, rompe gli indugi e torna in campo, candidandosi a sindaco di Chiaramonte-Gulfi. L'annuncio è arrivato in questi giorni nel corso di una convention a cui sono intervenute circa 600 persone. Partecipazione massiccia, ha affermato Guerrieri, che sta ad evidenziare che Chiaramonte-Gulfi ha reagito in modo entusiasta alla mia scesa in campo. Per Guerrieri in questi anni sono stati trascurati sia i giovani che gli anziani, cuore pulsante di una piccola comunità come quella a Chiaramontana, trasformando il paese in una realtà anonima. Guerrieri già sindaco, il primo a Chiaramonte-Gulfi con l'elezione diretta, sarà sostenuto da una coalizione che si chiamerà Liberiamo la città. Gioca d'anticipo l'ex primo cittadino del comune montano, eletto per ben due volte nel 93 e nel 97. La squadra è ancora in fase di allestimento. Ancora è troppo presto rispetto alle elezioni che si terranno in primavera. A gennaio sarà pronta comunque a sicura. Ha già predisposto il proprio programma elettorale. Tra i punti programmatici figura la questione igienico-sanitaria determinata dal malfunzionamento dei tre depuratori. Per Guerrieri bastano 1.175.000 euro per sistemarle tutti e tre, compreso quello di piano dell'acqua, sottoposto a sequestro della magistratura. I progetti infatti sono stati predisposti da anni e giacciono negli uffici del comune. Manca solo il finanziamento. Guerrieri parla anche della valorizzazione del territorio, che passa attraverso la promozione dei prodotti tipici, come ad esempio l'olio d'oliva, che dal 97 vanta l'IGP. Nel programma di Guerrieri anche quello di creare due corsi di scuola superiore, come quello di agraria e quello musicale da affiancare all'alberghiero. E infine rilanciare i sette musei nati proprio per volontà di Guerrieri nel periodo in cui era sindaco e che rappresentano la memoria della cultura storica del piccolo comune montano. A 15 giorni dalla scadenza della convenzione del Corfilac non arriva nessuna risposta da parte della regione siciliana. Un silenzio assurdo sulla vicenda che il presidente del Consiglio Comunale di Ragusa, Tringali, torna nuovamente a sollecitare chiedendo risposte all'assessorato all'agricoltura. Allora ripercorriamo quanto accaduto attraverso il servizio di Carmela Minardo. A circa 15 giorni dalla scadenza della convenzione del Corfilac di Ragusa, dalla regione non si registra nessuna attività concreta per la salvaguardia dell'ente certificatore e dei lavoratori. La chiusura è ormai imminente. Un silenzio assordante per usare uno simoro che ha portato il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Tringali, nuovamente ad intervenire sulla vicenda. Il tempo dell'attesa e delle risposte, evidenzia il presidente del Consiglio Comunale, è terminato. Non siamo più disponibili ad aspettare una interlocuzione con la regione. Alla mia nota ufficiale del 24 novembre scorso, trasmessa all'assessore Cracolici, con la quale si chiedeva un incontro urgente per discutere sulle prospettive future del Consorzio e del personale, non è arrivata nessuna risposta. L'invio di tale richiesta era stato concordato dalla conferenza dei capigruppo consigliari l'8 novembre scorso. Nonostante l'azione messa in campo dai deputati di Pasquale e di Giacomo, continua Tringali, nessun impegno concreto c'è stato da parte della regione per garantire l'attività del Consorzio Polo di Eccellenza per la ricerca dell'intera Sicilia. Sono stati diversi tentativi avviati con il gruppo consigliare per ottenere l'atteso incontro con l'assessore regionale all'agricoltura. Tringali annuncia che nei prossimi giorni convocherà la conferenza dei capigruppo consigliari per stabilire eventuali azioni eclatanti da porre in essere. La regione, infatti, afferma il Presidente del Consiglio, non solo non ha risposto alla mia richiesta né tantomeno ha assunto alcuna decisione dopo la nota che il Sindaco Federico Piccitto e l'assessore Stefano Martorana hanno inviato il 7 dicembre scorso sia all'assessore Cracolici che ha il Presidente del Corfilac Salvatore Barbagallo manifestando la volontà di prolungare l'attività del Consorzio oltre il 30 dicembre 2016. In queste ore comunque sono state accreditate tre bensilità ai lavoratori. Salta invece il Consiglio d'Amministrazione che avrebbe potuto, se c'erano le condizioni, provvedere alla ratifica della Convenzione. Da notizie non ancora ufficiali si è appreso che il CDA dovrebbe riunirsi la prossima settimana. presentati stamani al Comune di Ragusa le agevolazioni sociali tramite attestazioni ISEE per i pagamenti dei tributi locali. Sono stati gli assessori alle risorse economiche e ai servizi sociali ad illustrare i nuovi provvedimenti. Agevolazione per il pagamento dei tributi per il prossimo anno. L'annuncio è stato dato stamani dall'assessore ai servizi sociali Gianluca Leggio e dall'assessore al bilancio Stefano Martorana. La Giunta ha infatti approvato la delibera con cui viene elevato il tetto minimo del reddito ISEE a 6.532 euro per poter usufruire dell'esenzione totale della Tari, della Tasi e del canone idrico. Un atto di indirizzo necessario è spiegato l'assessore alle politiche sociali vista l'alta fetta di popolazione che si trova in enorme difficoltà. Disagio attestato dalle domande effettuate agli uffici competenti. Quindi presentando una richiesta sarà possibile usufruire di queste agevolazioni. Al contempo saranno avviati dei controlli incrociati con la Guardia di Finanza per evitare che furbetti tramite false attestazioni possano avvalersi indebitamente di misure previste per coloro che versano in effettivo stato di bisogno. Agevolazioni anche per il canone idrico. Il tutto grazie infatti al progetto anagrafe immobiliare previsto per recuperare l'evasione del canone. Attività che ha consentito di recuperare fondi che adesso permetteranno di ampliare la soglia dell'ISEE. Un lavoro di squadra quello messo in campo dall'amministrazione Piccitto per andare incontro alle fasce più deboli. Rifacimento del manto stradale, installazione di attraversamenti pedonali rialzati, piantumazione di nuovi alberi che andranno a sostituire quelli esterpati qualche mese fa. Interventi massicci che cambieranno radicalmente il volto di via Fabrizio a Modica. Questi gli interventi che verranno posti in essere nei prossimi giorni nel quartiere sorda di Modica. Facciamo riferimento al polo scolastico conosciuto come cittadella degli studi dove verrà messa in atto un'opera di restyling. Oggi tra l'altro si è registrato un sopralluogo da parte del sindaco di Modica Ignazio Abbate per vedere lo status dei lavori. L'Istituto Comprensivo Puglisi di Acate ha aderito al progetto Teleton questa mattina nel plesso a Dario dell'Istituto. Alunni e genitori hanno partecipato al mercatino di Natale mettendosi a disposizione per la vendita di lavori creativi, realizzati proprio da loro. Il ricavato sarà poi devoluto all'associazione Teleton il mercatino di Natale potrà essere visitato sino al prossimo 21 di dicembre nel plesso centrale dell'Istituto. Manifestazione della solidarietà oggi per gli alunni genitori e docenti dell'Istituto Comprensivo Puglisi di Acate che hanno aderito al progetto Teleton Un cuore per te promuovendo una raccolta di fondi per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche errare questa mattina presso il plesso a Dario dell'Istituto Mercatino di Natale con i genitori e gli alunni in primo piano a disposizione per la vendita di lavori creativi realizzati da loro stessi. Il mercatino di Natale comunque può essere visitabile fino al prossimo 21 dicembre nel plesso centrale dell'Istituto Puglisi domani domani invece si svolgerà la giornata del dolce in tutti i plessi il ricavato delle vendite previste durante gli eventi sarà dunque devoluto all'associazione Teleton un messaggio e soprattutto una pratica operativa reale di solidarietà perché il Natale porta con sé il desiderio di una analisi dell'esperienza umana dell'esperienza professionale fatta durante l'anno durante gli anni precedenti e si va sempre per tentativi ed errori e questa è una pratica umana e una pratica anche scolastica quella di sbagliare e riprendere sulla bassa dell'errore compiuto in un cammino di miglioramento e allora quale pratica ed esperienza migliore se non quella della solidarietà tra l'altro una solidarietà rivolta a persone sconosciute a persone non note che forse è la pratica più difficile da tentare da realizzare per delle persone le finalità principali del progetto sono molteplici tra cui coinvolgere attivamente i genitori in un percorso che permetta a tutti i partecipanti di sensibilizzare alunni e docenti sui problemi legati alle malattie genetiche avvicinare i bambini al mondo dell'arte delle tradizioni stimolando creatività e senso critico educare alla cittadinanza ma al centro del progetto ci sta un obiettivo ben preciso donare il sorriso a chi è meno fortunato di noi la finalità del nostro progetto è quello di coinvolgere le famiglie e i genitori in un percorso che permetta loro di sperimentare veicolare e sviluppare le potenzialità creative questo anche nell'alunno e poi educare alla convivenza veicolando valori universali che assimilati in tenere età possano contribuire a maturare la responsabilità e la partecipazione nella vita della società civile 14 e 46 minuti non ci sono ulteriori aggiornamenti da parte delle agenzie pertanto questa edizione del nostro telegiornale termina qui grazie come sempre per averci scelto e buon proseguimento su video mediterraneo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti